So che sei con me, ma ho nostalgia di te, amo i passi tuoi e come cerchi il mio cuore. E' possibile vivere la gioia nella malattia? Per rispondere a questa domanda occorre prima provare a spiegare che cosa è la gioia, cosa si intende con questo termine. Potremmo intanto ricorrere al dizionario, il quale la definisce come un'intensa e piacevole emozioni, che si prova quando si è felici o si raggiunge un obiettivo. Gli studi in psicologia ci dicono che la gioia è un'emozione innata, universale, comune a tutte le diverse popolazioni. E' una reazione ad una situazione positiva, una sensazione di benessere, sia a livello fisico, che incide quindi anche sulla salute del corpo, che a livello cognitivo, a livello comportamentale, favorendo anche le relazioni tra le persone e quindi promuove qualche cosa di buono nella vita del soggetto. Stiamo parlando naturalmente di un'emozione, di qualche cosa che è passeggero, che è momentaneo e transitorio, legato ad un evento. Filosofie e religioni diverse fra di loro trattano questo tema, ma la gioia è fondamento della cristianità. Papa Francesco ci ricorda che il cristiano è uomo e donna di gioia. Credo si possa sviluppare una tendenza alla gioia, nonostante le proprie vicende personali, nonostante il carattere e le attitudini. Ecco, Vittorino Andreoli, che è un famoso psichiatra, ha scritto un testo molto interessante, La gioia di vivere, in cui egli, parlando della fatica di vivere e di tutto quello che si passa attraverso la quotidianità, è possibile vivere un momento, un percorso positivo, favorendo il passaggio dall'io al noi, attraverso il superamento e creando un equilibrio tra il futuro con le sue aspettative, con i desideri irrealizzabili e il passato con le sue ferite, i suoi rimpianti, vivendo in maniera profonda il presente, con tutto quello che di buono può donarci. Ecco, io rimango stupita di fronte a tante situazioni personali, a tante persone toccate da problemi pur gravi, che riescono comunque ad apprezzare la vita. Io stessa ho dovuto subire, tre anni fa, un momento doloroso nella mia vita. Ho affrontato tre interventi chirurgici alternati a dei cicli di chemioterapia, quindi difficoltà personali, familiari, lunghi viaggi per andare a curarmi. Ecco, ma io ho imparato a guardare la vita con occhi nuovi, ho imparato ad abbandonarmi, ad utilizzare un senso di arrendevolezza nei riguardi del futuro. Questo non significa però rinuncia, ma abbandono, abbandono filiale nelle braccia di Maria, abbandono nel cuore misericordioso di Gesù. Ecco, se la gioia comunemente intesa è un'emozione veloce, immediata, spontanea, una risposta ad un evento, non è la stessa cosa per il cristiano. È qualche cosa diverso, non è un fatto momentaneo. Lavorare, impegnarsi per cambiare, per sviluppare una visione diversa della vita, vale la pena. Io desidero esprimere gioia, cogliendo tutto ciò che la vita sa donarmi. Provo un'immensa gratitudine per tante grazie che ricevo ogni giorno e che sono presenti nella mia vita e che sperimento quotidianamente. Per questo voglio cantare il mio Magnificat come Maria. Ecco, Dio facendosi bambino ha voluto vivere tutto il percorso umano, tutta la vicenda umana e così io posso partecipare anche al suo dolore. Gesù nel Getsemani ha detto il suo sì alla passione e io posso partecipare con lui a questo sì. Ecco, Gesù si fa carico del mio dolore, delle mie difficoltà, e non mi chiede niente che io non possa supportare. Non mi chiede niente che io non possa affrontare. Sono sua creatura e si preoccupa lui di me. Lui provvede a me e tutto il giorno sono sotto il suo sguardo. Ecco, come credente in Cristo risorto, provo gioia e speranza per il futuro, ma voglio vivere e vivere con la speranza e con la gioia anche questo tempo presente che sono chiamata a sperimentare ogni giorno. Voglio sorridere per me e per coloro che mi circondano. Non si tratta di negare ciò che è la realtà, ciò che è scomodo, ma di dare senso alla vita, che mi trovo a vivere questa vita e accettare il progetto di Dio su di me. Ogni situazione, come il sopraggiungere di una malattia, può essere vista come un'occasione di crescita, come un'opportunità di ricchezza, se si accetta con gratitudine, se si accetta come progetto di Dio per noi, se colta con occhi nuovi. Ecco, una volta qualcuno ha detto, la provvidenza sorge prima del sole. Ecco, la provvidenza si alza prima di noi al mattino e si corica dopo di noi. La fede mi aiuta a vivere il mio presente, a superare ogni timore ed è un valore aggiunto se condivisa. Io nel movimento Glorosa Trinità ho trovato persone che mi accompagnano, che condividono il mio cammino. Con Don Andrea e tanti fratelli e sorelle riesco ad affrontare il mio presente con positività. Si tratta di una grande famiglia e la vicinanza, l'amore e la preghiera degli altri sono per me forza e sostegno. A questo punto posso rispondere alla domanda iniziale. Sì, si può vivere con gioia anche la malattia. Il Signore mi aiuti e mi sostenga nonostante il limite delle mie forze, nonostante la mia pochezza, mi guidi e mi aiuti a riflettere la sua luce.